buongiorno ragazzi buongiorno a tutti eccoci a pesca e aspettate che non mi ammazzo e che giornata che giornata bella mare piatto piattone piattino temperatura gradivolissima gradivolissima ci sarà 24 gradi sembra ancora di essere estate nonostante siamo già in autunno ma fa ancora molto molto fa caldo ma si sta bene insomma via non si suda condizioni le vedete piattone acqua trasparente tanto foraggio c'è tanta sardina piccolissima qualche aguglia quella che ogni tanto salta e si fa vedere per adesso questo è quanto oggi siamo alla prima praticamente giornata di pesca vera e propria ieri abbiamo fatto un misero tentativo di un paio di ore nemmeno un'ora e mezza prima che venisse buio e poi siamo andati a mangiare adesso siamo qua a pesca abbiamo tante ore davanti a noi potrebbe succedere qualcosa potrebbe succedere assolutamente niente questa è la pesca ma noi ci proviamo ce la mettiamo tutta come al solito e vediamo se riusciamo a cavare il ragno dal buco condizioni sono piattose c'è l'acqua trasparentissima e c'è tantissimo ma tantissimo foraggio e voi direte beh beh buono se c'è da mangiare sì è vero è buono quando c'è foraggio il problema è che quando ce n'è veramente tanto come adesso ovvero che tutti i posti dove uno butta l'acqua butta l'occhio vede della piccola sardina piccola piccola tipo tra quattro centimetri e in quel caso convincere un pedatore a mangiare un pezzo di metallo di plastica non è facilissimo ci vogliono parecchie cose un po di tecnica un po di perseveranza e un po di fortuna un po di tutte le cose insomma ci vuole e sperare appunto che il pesce collabori sono sempre quelle le cose non è che c'è tanto da girarci intorno i fattori nella pesca sono sempre quelli e noi le applichiamo cerchiamo di applicarli tutti nella speranza di prendere qualcosa se non prendiamo niente con buone probabilità lo prenderemo nel di dietro ma pazienza tanto in italia siamo abituati a prenderlo in quel posto i wanna reach the bottom in the same time yes a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti. 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 Potrebbe essere positivo come negativo. Positivo perché essendoci meno foraggio un predatore eventualmente potrebbe trovare più invitante un'esca artificiale. Negativo perché essendoci meno foraggio magari i predatori sono dietro al foraggio stesso di qui sopra e non frequentano questa zona. Insomma, chi lo sa come funziona, noi ci proviamo, 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 capottiamo, capottiamo, capottiamo. Però l'ha scappottato con una riccioletta bevi e basta. Ma è arrivato un tanfo di merda mostruosa, ma cristiani qua non penso che ci sia qualcuno, a parte Marcos che è sotto vento, quindi non può essere, non può provenire, non può aver scorciato lui. Ok, ok, ok. Ok, ok. E' indovinato un po'? Quando è che la GoPro si è spenta per il surriscaldamento? Esatto, proprio nell'unico strike di un pesce decente della giornata. Ma per fortuna avevo Marcos vicino e almeno sono riuscito ad avere un piccolo spezzone degli ultimi istanti di combattimento. So, bring, bring! Let me take you here, show show Contra, yes! F casesc al 40% Quindi questi sono i bambini che attacchano... Ma non è una piccola per rilasciare, è una piccola per mantenere! Ho alcuni piccoli di te Un bel pesciotto, un bel pesciotto! Sul sardine slider da 80 grammi Ragazzi, io alzo bandiera bianca, basta, non ce la faccio più Oggi mi sa che tra una cosa e l'altra 10 ore di lancio ce le siamo fatti Quindi sono ridotto uno straccio Modalità zombie, in piedi a malapena, barcollo Barcollo ma non mollo, eh, barcollo ma non mollo Ora mi sta anche venendo fame Comincia a essere tardi, quindi direi che è perfettamente normale Mi sta anche venendo fame, sicché che si fa? Niente, si chiude baracca e burattin E si va a mangiare Stasera che ci mangiamo e ci mangiamo quel bel denticiozzo E ce lo facciamo fare alla griglia da qualche ristorante Vediamo dai, dove siamo andati a mangiare tipo l'altra sera Il tipo sembra disponibile E niente, lì paghiamo il servizio e ci mangiamo il nostro denticiozzo Tanto a casa abbiamo una piastra che sembra le cucine quelle dei bambini di 5 anni Tipo com'è dolce, dolce cucina lì, quelle robe lì Quindi ragazzi, oh ci sono le zanzare, maledette Ragazzi, ci vediamo dopo? Ci vediamo dopo, dai Se non casco e mi ammazzo qua che ho il calo di zuccheri Dai, dai, ci vediamo dopo, dai, dai, dai Andiamo, chiudiamo, anzi però mi faccio ancora un ultimo lancio Sì sì sì, ultimo lancio poi chiudo Abbiamo un po' d'acqua per c'è l'arsura Oh ragazzi, questo dentice ce lo siamo veramente spazzolato Ma si vedrà qualcosa nell'immagine? Mi sa di no, comunque boh Ragazzi, il video finisce qui Ci andiamo a dormire, me ne vado subito a nanna Sono spezzato in due Però è stata una bella giornata, divertente Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando, iscrivetevi al canale e like Noi ci vediamo alla prossima Al prossimo video Speriamo, se Dio vuole Ciao ragazzi, alla prossima Ciao